Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ho odiato me Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo Per questo il mondo vi odia Ricordatevi della parola che io vi ho detto Un servo non è più grande del suo padrone Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi Se hanno osservato le mie parole, osserveranno anche la vostra Ma faranno a voi tutto questo a caso del mio nome Perché non conoscono colui che mi ha mandato Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato Eccoci giunti a sabato 13 maggio 2023 Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi Tratto dal capitolo quindicesimo di San Giovanni Versetti 18-21 Oggi è una grande festa Ricorre la memoria della Beata Vergine Maria di Fatima E ho già fatto tante omelie, catechesi Sulla apparizione della Beata Vergine Maria di Fatima Quindi per chi lo desidera Rimando a quanto già ampiamente detto, illustrato e commentato Su questa importantissima apparizione Che poi di fatto riprendo ogni mese Quando parlo, quando ricordo La pratica dei primi cinque sabati del mese Sicuramente oggi è un giorno Dove onorare la Vergine Maria Non solo attraverso la consacrazione Suo cuore immacolato Ma anche attraverso la recita del Santo Rosario Proseguiamo quindi la meditazione La lettura che stiamo facendo del libro di Romano Guardini Lo spirito della liturgia e i santi segni Oggi affrontiamo il capitolo riguardante la mano Scrive Guardini L'intero corpo è strumento ed espressione dell'anima Questa, l'anima, non è semplicemente nel corpo Come una persona che siede nella propria casa Bensì risiede e agisce in ogni membro e in ogni fibra Parla da ogni lineamento, da ogni forma e moto del corpo Però, dell'anima, specialmente il viso e la mano Sono strumento e specchio Quindi, Guardini ci sta dicendo Tutto il corpo è un'espressione È uno strumento dell'anima E l'anima Attraverso ogni lineamento, ogni forma Ogni moto del corpo, ogni espressione L'anima parla Soprattutto attraverso il viso E attraverso la mano Del viso ciò è senz'altro evidente Prosegue Ma osserva una persona o anche te stesso E nota come ogni moto dell'animo Gioia, stupore e attesa Si manifestano contemporaneamente anche nella mano Un repentino alzare della mano Oppure una sua lieve morsa Non dice spesso di più che la stessa parola La parola espressa non appare talvolta grossolana Accanto al linguaggio delicato e significativo della mano Essa è, dopo il viso, la parte più spirituale del corpo Se così si può dire Beh, voi pensate Con una mano Quando noi facciamo una carezza a qualcuno Diciamo sicuramente di più Di cento parole Quando con la mano diciamo no Non c'è bisogno di aggiungere parole E no Così come quando noi tendiamo la mano O le mani, no? Pensate a quando una mamma tende le sue mani Le sue braccia a un bambino Che le corre incontro, no? Pensate al gesto importantissimo Di stringere la mano a qualcuno Oppure di abbracciare, no? Qualcuno Certamente lì in tutti questi momenti L'anima si esprime in un modo assolutamente singolare E ha un'espressività molto forte, no? Prosegue È salda e vigorosa Quale strumento del lavoro Quale arma di offesa e di difesa Ma pur tuttavia È anche una cosa finemente costruita Ben articolata, mobile Percorsa da nervi delicatamente sensibili Quindi veramente Uno strumento per cui l'uomo può rivelare la propria anima E insieme accogliere l'anima altrui Anche questo E li fa con la mano Sarebbe bello che qualche volta Contemplassimo le nostre mani Poi aggiungo Anche non solo le mani Pensate a tutto il miracolo Di bellezza Di delicatezza Di precisione Di perfezione Che è il nostro corpo, no? Pensate alla mano Pensate agli occhi Pensate alla lingua Che ci permette di parlare Ci permette di gustare Ci permette di cantare Pensate ai piedi, le gambe Attraverso i quali noi camminiamo Ci muoviamo Andiamo dove vogliamo Cioè Siamo talmente abituati A quello che siamo Che Non riusciamo più a vedere Il miracolo Che ogni istante Ci portiamo appresso E che siamo noi Che è questo corpo Bellissimo Che il Signore ci ha dato Pensate La mente Al miracolo enorme Alla meraviglia Stupenda Dell'occhio Guardate che la vista Poter guardare, no? L'occhio è veramente È talmente perfetto Che non è che tu puoi Trapiantare un occhio Non si può L'occhio È intrapiantabile No? Mentre posso prendere un polmone E da un uomo Lo sposto ad un altro O il cuore O il fegato Però L'occhio È un È talmente È talmente delicato È talmente Complesso Come struttura Come Come tutto Che Che è proprio Assolutamente Inripetibile Non cedibile Prosegue Non è un accogliere l'anima Altrui Lo stringere le mani Che uno ci tende Con tutto quanto Esse esprimono Di fiducia Di gioia Di approvazione Di dolore Così Non può Non avvenire Che la mano Abbia il suo linguaggio Anche là dove L'anima parla E riceve in modo Tutto particolare Vale a dire Dinanzi a Dio Dove l'anima Vuol dare se stessa Ricevere Dio Vale a dire Nella preghiera Ecco Vedete Anche nella preghiera L'anima Parla L'anima parla Attraverso Il linguaggio Della mano Delle mani Quando uno Si raccoglie tutto In se stesso Ed è nell'anima sua Solo con Dio Allora la mano Si stringe saldamente Nell'altra Il dito Si incrocia Col dito Avete presente Questa posizione Delle due mani Che si stringono Come se il flusso Interiore Che vorrebbe Dilagare Dovesse venire Condotto Da una mano Nell'altra E riportato Nell'interno Affinché tutto Rimanga dentro Un custodire Il Dio Nascosto E così parla Dio è mio E io Sono suo E noi Siamo soli L'uno Con l'altro In intimità Pensate Questo gesto Che noi Compiamo Spesse volte Durante la preghiera Di Di una mano Che stringe l'altra Che si incrocia Con l'altra Pensate Pensate Già Solamente Il gesto Che atto Di preghiera È Dio è mio Io sono suo E noi siamo soli L'uno con l'altro In intimità Bellissimo Un custodire Il Dio Nascosto Affinché tutto Rimanga dentro Cioè È come se L'uomo Si si Raccogliesse Totalmente In se stesso E entrasse In questa Comunione Profondissima Col Signore Attraverso Questa Postura Del suo corpo Che è Semplicemente Una mano Che incrocia L'altra Altrettanto Fa la mano Quando l'interiore Angustia Una necessità Un dolore Minaccia Di rompere La mano Si stringe Di nuovo Nella mano Nell'anima Dentro Lotta Con se Stessa Fino a che Si è Dominata Placata Ma se Uno sta Innanzi a Dio In atteggiamento Interiormente Umo E riverente Allora la mano Aperta Aderisce Pianamente Scusate All'altra Palmo A palmo Questo è proprio Quando da bambini Ci insegnavano A pregare Ci facevano Congiungere Le manine No? Una mano Che si congiunge All'altra Palmo A palmo E proprio Se uno vede Questo gesto Dice Questa persona Sto pregando Non c'è bisogno Che faccia Il suo di croce Non c'è bisogno Cioè È proprio Un gesto Che dice Preghiera Che dice Supplica No? Che dice Raccoglimento Che dice Anche Umiltà No? Richiesta Il che parla Scrive lui Di severa disciplina Di contenuta Riverenza Ed è un esprimere Umile Vedete È ben determinato La propria parola È un ascoltare Il divino Con attenzione E riscopriamo Questa Bellissima Gestualità Che portiamo Sempre con noi No? Le nostre mani E ringraziamo il Signore Di poter avere Due mani Attraverso le quali Possiamo dire Così tante cose Senza usare la voce E impariamo Quando preghiamo O reimpariamo O perfezioniamo Quando preghiamo Questo atteggiamento Così bello Delle mani Che si congiungono Oppure Oppure Scrive Spreghiamo Devozione Edizione Quando si abbandonano Per così dire Le mani Con cui ci difendiamo Alla stretta Delle mani Di Dio Avviene anche Che l'anima Si apra Tutta Dinanzi a Dio In grande Giubilo O ringraziamento Si che in essa Quasi in un organo Si aprono Tutti i registri Lasciando profuire La piena interiore Oppure nell'ante Essa invoca Allora l'uomo Apre bene le mani Le solleva palmi Dispiegate Affinché la piena Dell'anima Fluisca liberamente L'anima Possa completamente Ricevere Quanto brava Tutti atteggiamenti Delle mani E infine Può capitare Che uno si raccolga In se stesso Con tutto quanto Esso è e possiede Per offrirsi In pura dedizione Dio Conscio di eccedere A un sacrificio E allora Stringe Mani E braccia Sul petto Nel segno Della croce Vedete Questo offrirsi In pura dedizione A Dio Conscio di eccedere A un sacrificio Pensate Stringe Le mani E le braccia Sul petto Nel segno Della croce Un gesto bellissimo Bello e grande Il linguaggio Della mano Di essa La chiesa dice Che ci è data Affinché Vi portiamo L'anima Perciò Scrive Romano Guardini Perciò Prendi sul serio La mano Questo santo Linguaggio Dio L'ascolta E tende L'orecchio A quanto Essa Gli dice Nell'intimo Dell'anima Essa Può anche Parlare Di pigrizza Di cuore Di dissipazione Di altre cose Poco belle Tieni bene Le mani E procura Che l'intimo Tuo spirito Coincida davvero Con questo Atteggiamento Esteriore Dobbiamo avere Cura Delle nostre mani Mi ricordo Che Il mio professore All'università Ci disse Ricordatevi Che le mani Sono Il biglietto Da visita Di una persona E se voi ci pensate È vero Come sono belle Le mani Le mani Curate Di una persona Le mani Pulite Le mani Che Che esprimono Nobilità Dignità C'è proprio Anche un modo Di gesticolare Che dice Questo tratto Interiore Della persona Molto signorile Poi sono belle Queste mani Curate bene Ma non per Chissà quale vanità Proprio perché Si ha cura Di questo Strumento Che il Signore Ci ha dato Perché è capace Di dire così Tante cose Di parlare Così tante parole Ripeto Pur senza L'utilizzo Della voce E quindi Lui ti dice Tienile bene E procura Che ci sia Una coincidenza Una corrispondenza Tra Questo Atteggiamento Esteriore E l'intimo Del tuo cuore Cosa delicata Quella di cui Abbiamo qui parlato Di cose si fatte Non si parla volentieri Ma quasi con avversione Purtroppo Sì è vero Ci sono persone Che sono un po' Allergiche A questi discorsi Fanno un po' Fatica No? Così A lasciarsi Raggiungere Da queste parole Di guardini Da queste riflessioni E pensare No? A quanto di vero C'è In tutto questo E quindi Lui dice Con tanta Maggiore severità Vogliamo rispettare Queste esigenze Nella realtà Non farne Cioè un gioco Vano e affettato Mentre un linguaggio In cui il corpo In schietta veracità Esprima Dio Quello che l'anima intende Quindi Se a qualcuno Tutti questi discorsi Danno fastidio Lui dice Noi Con maggiore severità Vogliamo ancora Di più Sottolineare L'importanza È il linguaggio E le esigenze E le esigenze Di questa realtà Che siamo noi Che sono le nostre mani Che è il nostro corpo E quindi Non trasformiamo il nostro corpo Il nostro linguaggio Fisico In un gioco Con una banale Superficialità Quasi inconsapevole Ma Usiamo questo linguaggio Per parlare con Dio Ancora prima delle parole Per parlare con Dio E per dire al Signore Ciò che l'anima Vuole dirgli Benedicate vos Onnipotens Deus Pater Et Filius Espiritus Santus Amen Dio ci benedica E la Vergine ci protecca Amen Sia lodato Gesù Cristo Sempre sia lodato